Salve a tutti da Riccardo Zarfati, benvenuti a Portafogli ETF, un'occhiata a quello che è successo oggi sui mercati finanziari con l'ausilio degli indicatori Aikinashi. Vediamo oggi l'operatività per giovedì 4 di febbraio. Strumenti utilizzati nei nostri grafici, tutti ETF disponibili su borsa italiana che seguono al rialzo o al ribasso, questi sono naturalmente i ticker, tre indici mondiali e tre materie prime. Il quadro della giornata ancora decisamente negativo, anche se poi alla fine tutto sommato è andata meno peggio di come si era prospettata. Vediamo subito il tabellone, Italia a meno 2,85%, Germania a meno 1,53%, in questo momento Standard & Poor's che era scivolato oltre l'1% sta tentando di recuperare meno 0,48%. Dico che è finita meno peggio di quanto si era prospettata perché l'indice italiano era arrivato ben oltre il 4% per poi tentare un recupero sul finale di giornata. Che cosa è successo? Anche oggi niente di nuovo, questo è un po' il discorso che abbiamo fatto ieri, non sono arrivati dati macro che facciano temere il peggio, vendita al dettaglio dell'Europa più 0,3%, assolutamente liate con le attese, sul mercato americano l'ADP occupazione, domani ci saranno i non-farm per all, 205.000 nuove unità, attese 105.000 nuove unità, quindi un dato sopra le attese. Petrolio scorte settimanali 7,79 milioni di parili in più rispetto a 5, un dato potenzialmente negativo, ma vedete il petrolio in questo momento sta facendo più 6,11%, quindi non si può dare neanche la colpa al petrolio che scende oggi, è evidente che in questo caso soprattutto per i mercati europei stanno ancora preoccupando le banche e il sistema bancario in generale, con dei profondi ribassi che non riescono a trovare una soglia da cui ripartire. E come sempre l'Italia ha la peggio in queste situazioni, dato l'alto peso del settore bancario all'interno del suo indice. Se tenete conto che Unicredit, che è il più grosso istituto finanziario del paese, ha perso oltre il 50% in 6-7 mesi, è chiaro che di questo non si può dare la colpa al petrolio o alla Cina. Cina che peraltro in queste ultime giornate è stata piuttosto poco volatile e non ha dato bruschi affondi, come aveva fatto vedere nelle precedenti settimane. Questo è comunque il quadro, tra poco andiamo a vedere le candele, com'è la situazione, oro ne approfitta per allungare ancora un 0,5% del petrolio, abbiamo detto. Attenzione perché questi sprazzi di volatilità in fine serata sono piuttosto comuni, spesso si ritorna indietro, per cui seguiremo pedisseguamente le nostre candele. Corne meno 0,54 euro-dollaro va fortemente a rialzo, per cui parlavamo del supporto di un'auto, ha ben tenuto, c'è stata una robusta istensione 1,10,5 che a questo punto è un livello già di prima rilevante resistenza per i prezzi di euro-dollaro. Quindi candele, vediamo la situazione, partiamo naturalmente dagli indici, eccoli qua, ETF-MIB, naturalmente vedete a fronte di questo brusco ribasso una decisa candela rossa di trend. Attenzione perché qua siamo tornati, sono stati rotti i supporti che erano i minimi addirittura del 2014, prima che partisse il quantità di vising, per cui sembra quasi tutta una fatica sprecata tutte le attività che sono state fatte dalla Banca Centrale Europea. Che cosa vuol dire questo? Tutto e niente, nel senso che queste rotture a volte sono false rotture e da là si prende a risalire con decisione, ma non è certo da escludere uno scenario di profondi ribassi che possano proseguire ben oltre. È chiaro che sotto questi livelli non c'è molti altri livelli di supporto perché quelli più importanti sono a mio avviso in area 16,5. Ma questo vediamo, è inutile fare delle previsioni, qua siamo in doppio ipervenduto, certo quando il ciclo è così fortemente ribassista questo può rimanere anche per diverse giornate o addirittura per settimane, lo abbiamo visto ad esempio nel caso del petrolio. Non credo che sia questa la situazione, però naturalmente massima cautela nell'operare sull'azionario perché è una situazione particolarmente delicata, un po' per tutti gli indici, ma a quanto pare particolarmente per quelli europei, visto che il problema principale sembra essere effettivamente il crollo delle banche. vediamo il DAX, una candela analoga, il ribassi è stato più tenue, se volete, meno 1,37% lo strumento, comunque naturalmente una candela rossa. Qua siamo ritornati in prossimità dei supporti che erano stati già diverse volte, sia ad ottobre e poi anche all'inizio del mese, c'è stato un tentativo di rimbalzo. Per il momento fallito è già dal primissimo livello di resistenza e al momento sta di nuovo guidando un ciclo ribassista. Nel caso di approfondimenti, qua il supporto principale è estremamente lontano perché qua addirittura i minimi del 2014 stanno ad una distanza molto molto importante, addirittura a 74 circa per questo strumento. Siamo ad 83 per cui pensate che tipo di affondo potrebbe fare. Ripeto, questa non è una situazione decisa, siamo per il momento sui supporti, non sono stati ancora rotti per l'indice tedesco. Qua c'è un altro livello di supporto più o meno che è circa area 81, dove vedete c'è una zona di prezzi da dove generalmente il DAX ha reagito, prima naturalmente di arrivare al supporto principale che definirei questo punto di lungo periodo. Questo è il DAX, andiamo a vedere il mercato americano che si allinea oggi ai mercati europei. Un po' trascinato a ribasso, vedete una prima candela rossa che a mio avviso ripristina un trend di debolezza anche sul mercato americano. Questo è lo strumento USA, vedete una decisa prima gamba ribassista, un primo livello di ribasso che si è fermato più o meno per il momento a circa 30% di questa lunga gamba di ribasso, per cui vediamo come si evolverà nelle prossime giornate. Qua anche siamo in area di supporti di medio periodo, questi sono i minimi del 2014 che sono stati già toccati, testati dal sottostante, non dallo strumento per ovvi motivi di differenza oraria. Questo per quanto riguarda l'indice, quindi situazione in generale delicata, andiamo a vedere un po' lo strumento short, naturalmente vedete fa un'altra estensione rialzista, questo è l'indice italiano a ribasso, il Bermib. Qua c'è una situazione naturalmente speculare rispetto allo strumento rialzista che abbiamo precedentemente visto. Qua è stata rotta a rialzo un primo livello di resistenza, per cui, ripeto, attenzione, il trend sembra particolarmente forte, per cui c'è poco da scherzare. Bisogna aspettare che si riquilibri un po' la cosa, che ci siano dei segnali convincenti di ripristino rialzista del nostro indice. L'oro, come detto, ne approfitta, allunga verso area 86,37, qua avevo indicato una possibile area di resistenza e presa approfitta a 86,63, per cui siamo più o meno arrivati. Questa è una seconda gamba rialzista che abbiamo preso dopo aver colto anche la prima, sono circa poco più di tre punti percentuali. Per il momento c'è una candela verde, per cui la posizione può essere tenuta, chissà che domani non faccia qualche allungo finale, naturalmente vediamo. Per il momento candela verde, trend per l'oro che ancora continua. Siamo entrati in zona di ipercomprato, qua attenzione, perché naturalmente nei trend strutturalmente decrescenti, generalmente gli ipercomprati si tendono a vendere, perché sono delle soglie più importanti rispetto a quando i trend sono crescenti, dove hanno meno importanza. Comunque, ancora candela verde, seguendo questa metodologia è una posizione ancora da tenere, vedremo almeno per un'altra giornata. Il corner meno 0,46 fa una piccola candela verde ancora, ma certo non particolarmente efficace di trend. Qua potrebbe ancora esserci spazio per qualche allungo, per cui qualche suggerimento si può tentare di tenere, ricordo lo stop 4,79, poco sotto il pattern, il minimo di questo pattern di entrata. Questo per quanto riguarda agricoli e oro, andiamo a vedere l'energia, il petrolio VT, oggi ha fatto meno 4,34 lo strumento, no scusate, eccolo qua, più 2,59 lo strumento, ma probabilmente non ha ancora incorporato il forte rialzo del petrolio che è avvenuto in gran parte dopo la chiusura dei mercati europei, come spesso succede quando escono i dati delle scorte. Per cui ancora presto per dire, al momento il segnale, la candela è di trend ancora rossa, non c'è quindi un segnale di ripristino rialzista. Le possibilità ovviamente ci sono, per cui comunque aspettiamo un qualche segnale più robusto prima di eventualmente rivalutare una posizione rialzista sul petrolio. Bene, questo è tutto, quindi indici indeciso a fondo, il mercato italiano ha anche rotto un supporto rilevante, addirittura ai minimi relativi del 2014, prima addirittura del quantità di vising, vediamo se sarà un falso segnale dalla quale ripartiranno forti gli acquisti oppure se continuerà questo ciclo ribassista, naturalmente lo seguiremo passo passo. Vole il petrolio dopo un dato delle scorte? Non certo positivo, chiaramente qua c'è sempre speculazione su possibilità di accordo, naturalmente influisce anche l'euro-dollario viazzo, quindi l'indebolimento del dollaro che fa generalmente salire le materie prime. Questo è tutto anche per oggi, invito a visitare One Hour Trading, registrazione gratuita, troverete là tutte le informazioni per ricevere la newsletter operativa con indicazioni specifiche, chiare di acquisto e vendita di ETF. I miei contatti naturalmente per qualunque chiacchierata, informazione o approfondimento, questa è la mail, queste Skype sono sempre disponibili durante gli orari di apertura di borsa italiana. Grazie di nuovo per l'attenzione, ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. A presto!